MAMMA MEA CHE DOLORE! MI FA MALE TUTTO! Dottor, sentite a me che me ne intendo! Io sto per avere un infarto! Io sto morendo! Maria Rosario? Chi è? Qualcuno ti cerca! E chi è? Vede Luna! Cosa fai? Dormi? Ti sei rimbambita, ci hanno detto che era il cuore, invece la testa! Adelina, solita scema! Guarda, che a noi hanno detto che la scema la fai tu! Se non ti operi, non torni, non vogliamo mica vederti morire qui sotto gli occhi! E poi se non torni è un guaio! Come facciamo a giocare senza la quarta? Credevo che mi avevate sostituita! Io sono una schiappa, lo sapete? Schiappa sì, ma simpatica! Scusate, adesso vi devo lasciare! Sono morta? No! No! L'intervento è riuscito benissimo! Potrà stare tranquilla per molto tempo! Eh, molto tempo, non esageriamo! Sempre 82 anni tengo, no? 42! E fra un mesetto, 83! E che ci fate qua? Ti avevamo portato dolci e fiori, ci hanno sequestrato tutto! Do meno queste! Ah! Ah! Burraghino! Bravo! Come ven unfortunate! Potrà stare urpmicide! Che ci fate qua? No! S castlevii... Si unTF? Io te 135 ночi? S ce ti ha? I piaciuto da penンツa-disc kampio! SPA